l'aggiornamento 1.2 di cyberpunk 2077 è qui e risolve tutta una serie di problemi dalla modifica dei tempi di risposta della polizia all'apparazione dei pedoni benvenuti su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per build news guide e chi più ne ha più ne metta dei vostri giochi preferiti ricordatevi sempre di iscrivervi al canale perché è gratuito mi fate un piacere a me perché mi supportate e io così riesco a portarvi i video sempre migliori l'aggiornamento 1.2 è considerevole include dozzine di correzioni e modifica tutti gli aspetti del gioco e sembra che le modifiche che sono state prese in giro all'inizio di questo mese fossero solo la punta dell'iceberg oltre all'allungamento del tempo di risposta della polizia all'aggiunta di associazioni di tasti e alla correzione di alcuni aspetti della guida che vi posso garantire cazzo si riescono a fare le curve ora la pace includerà correzioni anzi include correzioni a una serie di missioni e a una grande quantità di glitch e se le centinaia di modifiche al gameplay agli script delle missioni all'ambiente all'interfaccia utente le prestazioni non fossero sufficienti le note sulla pace terminano con una semplice promessa e molte altre ora cdpr spera chiaramente che il supporto continuo e miglioramenti per cyberpunk 2077 inizieranno a compensare il suo difficile lancio e la risposta sui forum è stata ampiamente positiva con molti utenti che lodano gli sviluppatori per l'enorme mole di lavoro che hanno chiaramente svolto 33 giga di patch cioè è praticamente un nuovo gioco in altri erano più recenti ovviamente tuttavia forse ricordando i bug e i problemi aggiuntivi causati dall'ultima pace principale del gioco o meglio hanno rallentato l'uscita di questa pace proprio per gli effettivi problemi che la pace precedente la 1.1 ha riservato e quindi l'hanno voluta sviluppare con calma testare poi rilasciare tuttavia sembra che gli sviluppatori stiano facendo del loro meglio per rendere cyberpunk il gioco che volevano che fosse tra l'impressionante portata di questa pace e gli aggiornamenti pianificati per la versione ps5 e xbox serie x e s del gioco che dovrebbero uscire a breve i fan hanno potuto vedere un gioco nuovo e ringiovanito sorgere dalle ceneri non diversamente da no man sky che si è evoluto silenziosamente in un autentico gioco divertente ed espansivo dopo il suo lancio anche quello credo molto più problematico di quello di cyberpunk ricordo e io lo state vedendo in gioco ho continuato o meglio ho ripreso dopo la patch a giocarci con una nuova run e vi posso garantire che i miglioramenti si vedono sia prestazionalmente che graficamente ma soprattutto per la guida e per quelle poche cose la maggior parte sono questa faccia risolve i problemi di glitch e bug che c'erano nel gioco e che sfortunatamente ci sono ancora alcuni perché è un gioco talmente grande che queste continui aggiornamenti continueranno ad esserci fino alle dlc e fin dopo le dlc perché ovviamente ogni volta che si va a toccare qualcosa se ne rompe un'altra così è per tutti ma devo dire che il gioco è nettamente migliorato le modifiche apportate da questa patch potrebbero quindi aggiustare il gioco e gettare le basi per i presunti pacchetti dlc in arrivo almeno così era stato dichiarato dal cdpr vediamo se questa cosa avverrà il che significa molte altre cose da fare mentre si vaga per le strade di night city qualunque cosa accada tuttavia i veri appassionati di cyberpunk saranno sempre in grado di guardare indietro con affetto al momento in cui una scala ma riposta potrebbe provocare la scomparsa improvvisa e prematura del personaggio quindi la patch note se ancora non l'avete letta è qua sotto in descrizione vi lascio il link e concludo questo piccolo video con una richiesta e un augurio lasciate lavorare gli sviluppatori di qualsiasi publisher o studio essi siano gli errori sono umani più o meno grandi e spalare merda o scagliarsi come pazzi minacciando di morte chi ha buttato sangue su un titolo non è mai la soluzione lasciatele lavorare aspettate certo potete lamentarvi dire ok è una merda passa l'altra aspettando il meglio ma cerchiamo di migliorare l'atteggiamento da qua in avanti e dare credito e fiducia soprattutto a chi la fiducia se l'è conquistata in anni di duro lavoro perché tutti possono fare un errore anche voi con questo è tutto noi ci rivediamo al prossimo video gg a tutti quanti